Buongiorno a tutti 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 Sui tempi questo non gli so dare un'esatta cadenza dei tempi La collocazione ovviamente deve essere del tutto conforme sia per quanto riguarda codice della strada che con regolamenti e leggi regionali e nazionali in materia Ed essendoci tutti questi requisiti quindi non ci sarà alcuna difficoltà comunque c'è la certezza che verranno collocati Devono rispettare queste... tutto deve rispettare la normativa come giusto che sia Allora una notizia positiva questa voi già da tempo avete messo a disposizione queste dispense Sì insomma l'idea nacque nel momento in cui furono rimossi i contenitori della spazzatura Chiaro che moltissimi animali cani e gatti si ritrovarono senza la fonte di sostentamento e ancora continuano a lottare per la sopravvivenza E l'idea nata a luglio diciamo ha una prima frase germinale adesso quest'oggi Nel confronto con i comitati di quartiere che hanno dato in maniera positiva o in maniera negativa Il diciamo il proprio parere hanno fornito il proprio parere in merito alla collocazione degli stessi Escludendo determinati punti che siano vicini alle abitazioni oppure che siano vicini diciamo alla strada Quindi rappresentare anche un pericolo per la viabilità Voi siete pronti già da tempo come dicevamo e tra l'altro alcuni comuni vi hanno chiesto notizie quindi altri sarebbero pronti a farlo Assolutamente sì il comune di Mazzara è stato il primo ad interpellarmi Tra l'altro mi chiesero dove poter reperire i dispenser E' un'idea che andrebbe anche bene su Ribera perché ci hanno dato la disponibilità Ed è un'idea che su altre realtà italiane ha funzionato Ed è quello che ripeto nonostante venga osteggiata quasi quotidianamente un segno di civiltà Assessore al di là di questa iniziativa qual è la situazione per quanto riguarda la vicenda del randaggismo a Sciacca Voi avete svolto delle riunioni recentemente, si è ripreso a parlare dell'argomento Però si ha l'impressione che rispetto a quanto accadde dallo scorso mese di febbraio Quando è accaduto quel fatto molto grave dell'avvalentamento dei cani incontrati a Mucciare Non ci sia stato un effettivo cambio di rotta Cioè non c'è stata una drastica riduzione del numero dei randaggi nelle strade di Sciacca Questo per quale ragione? Le motivazioni sono molteplici perché il fenomeno del randaggismo come è noto è alimentato da diversi fattori Dai cani nostrilizzati che quindi si possono riprodurre Dalle cucciolate padronali che vengono abbandonate Dagli abbandoni che avvengono anche dai paesi limitrofi Quindi in realtà è un fenomeno molto complesso Se non vengono chiusi tutti questi rubinetti è difficile da controllare E con questa chiusura a che punto siamo? Con questa chiusura stiamo lavorando